La rinoplastica è un intervento chirurgico che mira a correggere quali sono le imperfezioni del naso e se richiesto contestualmente è possibile anche andare a correggere problematiche di natura respiratoria come ad esempio un setto nasale deviato o un'ipertrofia di turbinato. L'intervento è eseguibile sia in anestesia locale con sedazione sia in anestesia generale, quest'ultima fortemente consigliata nel caso in cui si voglia nello stesso tempo migliorare problematiche estetiche e curare disturbi respiratori. Le tecniche utilizzabili sono svariate e possono prevedere incisioni solo all'interno della mucosa nasale, la cosiddetta tecnica chiusa o l'aggiunta di una millimetrica incisione alla base del naso, in questo caso si parlerà di tecnica open. Subito dopo l'intervento verrà applicato un gessetto contentivo che in media verrà rimosso dopo 5-7 giorni e nel caso fosse corretta anche una problematica respiratoria verranno applicate delle gaze nelle narici, non i classici tamponi, che verranno rimosse in maniera del tutto indolore e atraumatica dopo 24-48 ore. Quindi dopo 7 giorni all'atto della rimozione del gessetto finalmente sarà possibile apprezzare il miglioramento raggiunto.